Un'area di ben 500 metri quadrati destinata agli animali e ai loro proprietari per consentire di offrire un luogo dedicato agli amici a quattro zampe. Questa mattina al parco del Mercatello a Salerno è stato inaugurato lo spazio a cui si accede dal lato di via Limongelli. Illuminazione pubblica, recinzione, panchine, cestini e acqua potabile completano l'area attrezzata. Ai microfoni di 8 Channel il sindaco Enzo Napoli e il consigliere comunale Angelo Caramanno. Un altro piccolo segno di civiltà che stiamo dando perché già in città ci sono diverse aree destinate agli amici a quattro zampe e questa è un'altra area che si aggiunge e credo che sia un fatto di assoluta civiltà. Noi offriamo opportunità anche ai proprietari di animali di poter far divertire, se è lecito dire in questo modo, i loro amici a quattro zampe in un'area protetta, non possono scappare per strada, non possono avere incidenti, è una cosa di assoluta semplicità. Con questo tipo di intervento ovviamente andiamo anche a mettere una sorta di compensazione e offriamo uno spazio in più a chi ha meglio di animali. Tra l'altro io ne ho più di uno quindi condivido pienamente questa passione. Per quanto riguarda poi invece la vicenda del parco in sé è evidente insomma che questo spazio diventa ancora di più uno spazio di riferimento assoluto per tutta la città.